Il tema di Meetelfast 2019 è quello della leadership, un tema che ha interessato tutte le società in tutte le epoche e che riguarda la possibilità, la capacità, la forza di alcune persone, di alcuni gruppi sociali, politici, culturali o anche religiosi di condizionare la vita degli altri. Questo succede oggi ancora di più attraverso mezzi di comunicazione con i digitali che sono potenti e hanno grande forza d'urto anche dal punto di vista della manipolazione della realtà e del condizionamento delle coscienze. Nel Meetelfast di quest'anno troveranno spazio anche elementi e caratteristiche della leadership intesa nel suo rapporto con i cosiddetti sovranismi, con i nazionalismi, con la demagogia. Ci saranno anche degli appuntamenti che esploreranno le caratteristiche della leadership nell'attualizzazione politica e sociale, perché oggi i sovranismi, i nazionalismi, alcune deviazioni o devianze autoritarie sono legate anche alle leadership che a loro volta mettono in discussione alcuni fondamenti di una democrazia che non è il miglior modo di governo di una società, è piena di difetti, ma forse è l'unica possibile o il male minore in questo momento. Grazie a tutti.